no io questa io non me la metto non me la metto non me la metto io non voglio festeggiare halloween pensate come sono fuori dal colpo voglio festeggiare la festa di ogni sanno e ve la dico ancora più strano poi voglio anche celebrare la giornata di tutti i defunti e io sono fatto così si spendono ogni anno si spendono ogni anno 300 300 milioni per vestiti di zombie e di scheletri e di cose orrende mostruose tutto per importare una tradizione che non è la nostra e dimentichiamo invece le nostre radici dimentichiamo la tradizione la zuppa di ceci il pan dei morti e allora io dico no io non voglio questa cosa non voglio festeggiare halloween io halloween non lo voglio festeggiare io halloween non lo voglio festeggiare non lo voglio festeggiare quindi sono a casa amore sono il lupo cattivo euro tre euro tre euro uno due tre ho donato ho donato il bonus monopattino il bonus monopattino dov'è il decreto lei ha visto il decreto il decreto dov'è non voglio più sentire il gerundio no stiamo facendo no stiamo realizzando sono io pazzo sono pazzo io sveglia 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 bisogna suonare i metodi forti svegliatevi bisogna svegliarli fermo donato fermati fermo fermo sei matto donato fermati ma non te l'han detto niente feste non si fanno le feste non si invita più nessuno neanche a casa non più di sei persone io c'ero qui la zia concetta la zia maiuccia le ho dovute mandare via una torta la festicciola non so cosa farne di questa torta ma sai cosa ti dico tu lo sai noi siamo per rispettare le regole sempre le regole si rispettano ma quando le regole ti dicono cosa devi fare tu a casa tua quando addirittura ti minacciano di mandarti la polizia a casa a controllare cosa fare io sai cosa ti dico donato sai di questa torta lo sai cosa ne faccio lo sai cosa ne faccio io donato ne faccio io ve la dico non l'ho tirata a voi no l'ho tirata a loro a loro quelli che parlano così erano zucche finte perché il cibo non si spreca